Sono Manuel Baraldo, titolare della pizzeria Sette Teste, oggi vi presento la mia ricetta chiara dedicata a mia figlia e al mio territorio veneto. Grazie per la visione! Ho scelto Scrucchiarella perché mi permette di lavorare bene con il minimo sforzo. Ed ecco chiara la mia interpretazione dei sapori del territorio veneto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!